ciao a tutti dunque qui ad honor del vero hanno pulito veramente bene volevo farlo vedere guardate qui dove devo passare sta qui davanti a noi ed è pulito bene adesso scusate ma adesso vedo che è pulito bene in compenso però volevo farvi vedere una scena dal parco però riuscire senza spegnere tutto allora questo è il parco e non so se si vede il lago praticamente ghiacciato io non invidio il cigno bellissimo che è lì in fondo in mezzo al ghiaccio in mezzo alla niente non so in mezzo cosa stia pure però disgraziato questo è il lago non so se riesce riuscita a vederlo perché purtroppo sono da solo in questo momento va bene sono a metà strada spero di non morire perché ho dimenticato la cuffia perché sono una cretina